Pietro Sega è il presidente della Proloco di Azzinano. Tra i progetti di quest'anno, al di là dei murales che ogni tanto vengono rinnovati ad Azzinano, c'è quello invece di rinnovare l'illuminazione pubblica, perché di notte di fatto non si vedono i murales. Non è che vogliamo rinnovare, vogliamo migliorare l'illuminazione pubblica, perché in alcuni punti del paese l'illuminazione pubblica è scarsa. Abbiamo trovato una sindesi con il Comune, un accordo con il Comune, il quale si sta impegnando con una ditta per migliorare l'illuminazione. I lavori sono già cominciati. Questo per quanto riguarda la fruibilità, ovviamente anche di notte, dei murales. E invece per l'estate prossima cosa c'è in programma sui murales? Beh, allora, per quanto riguarda l'estate prossima, viviamo in una situazione anche di incertezze, perché non sappiamo ancora la situazione sanitaria come può essere, quindi abbiamo, ci andiamo con i piedi di piomba. Comunque stiamo pensando comunque di realizzare nuovi murales, almeno un paio vorremmo realizzare. Quest'anno ne abbiamo realizzati tre, tre nuovi murales, compreso questa cassa, sì. Il prossimo anno sicuramente ne realizzeremo altri due sicuro. Ci sono i muri su cui realizzarli, sì. Cominciamo ad avere difficoltà, perché all'interno del paese, con i lavori della ricostruzione che devono partire, non siamo così sicuri di poterlo realizzare su una parete. Stiamo cercando comunque degli spazi sicuri e vedremo.